Giulio Cesar adesso a innervosire, a cercare di farlo, Zlatan Ibrahimović è un duello, Giulio Cesar va a prendere posizione, la battuta di Zlatan Ibrahimović, il pareggio del Milan! 27 gol in campionato per Zlatan Ibrahimović, minuto 44. Gliadio Cesar va a prendere posizione, ha avuto 4, e Sveiten è abbastanza abbastanza in giro in giro. Non si può fare questo tipo di brilliante. Il circombarco, lo trova, è pronto al traversone, ecco il cross, colpo di Deco di Ibra, Imovic, lo Scorpione, 1-0. Ci voleva un'invenzione per sblocare questa partita, Adriano, uno contro uno suo esterno, si sono invertiti ruoli. Ibrahimović! Oh, come on! Come on! Ha fatto una cosa pazzesca, Ibrahimović. Montari chiede palla, vogliono ancora ridare palla, però Ibrahimović ha fatto una cosa, ragazzi, altro che Taekwondo, ma hai visto? Lo Scorpione proprio. Un'apertura volante. Giuse dos Santos, lifts it into the area, Ibrahimović scores! That is number 500 for Zlatan Ibrahimović, and only he can get to 500 in that way. Well, you said the Galaxy needed to take something positive out of this, well, no matter what. L'actuale, toujours per frapper, le corner! Oh, quel geste! Quel geste! L'égalisation de Zlatan Ibrahimović! 23e minute, le 8e but cette saison du giant suédois, et celui-là, c'est vraiment un but. Christophe à la Zlatan, l'extérieur du pied. Exceptionnel geste et égalisation du Paris Saint-Germain. La Zlatan Ibrahimović, 25e minute, le double en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Stev Monanda. Zlatan 2, Olympique de Marseille 1, et encore un double pour lui, le 4e cette saison. Mellberg est là, et c'est Amélie 1, et c'est Amélie 1! Comment tu tes sets, et c'est un seul ? Et c'est Amélie 1 et un seul ? Svez-on, le 3e de l'heure, c'est Amélie 2, confinants de contre. Amélie 1 et c'est Amélie 1, c'est Amélie 2, il est un seul ? Grazie a tutti.